Non è minuciosa, vedremo un po' che stasera Alberto Del Rio subirà la CTS in modo che sia in palco e se ne vada ancora con la cintura, oppure se sarà Alberto Del Rio a vincere per sottomissione e quindi se ne andrà via lui con la cintura. Voi che avete acquistato il videogame, provate a creare anche il bardo e il guzzino.